ciao a tutti gli altri ragazzi per venire in quest'ultimo video oggi ragazzi parleremo di Sassuola Miran un paio da due video sì non sono riuscita a fare un tempo però da ora sarò più puntuale cominciamo subito con il dire che è una partita un po' buttata tre punti che si dovevano fare non va bene però giocare così ok turnover, Popeye che ha fatto schifo, sale Makers cioè prima Messias fa schifo e poi sale Makers gioca bene poi sale Makers fa schifo e messias gioca una partita splendida perché quei venti minuti che ha giocato l'ho visto con l'Atletico, con l'anno scorso e con Genoa Genoa sì come si dice solo lì, solo lì all'incirca l'ho visto così però sì l'ho visto così e poi in altre partite eravamo all'incirca così poi grande Mike Magnan, Berardi che si è fortunato i cori va bene gli sfottò però se non lo pensi davvero lo sai anche dire sì è nostra allo stadio sì un po' se ha giocato la reazione della moglie forse sì si è fatto male il marito Florence pure si è fatto male, non so in che modo e comunque attacco che dovevo migliorare perché un super pier caluno come sempre pure se ho giocato 10 minuti però bene Kier è tornato in forma può giocare 20 minuti partita sì, ora quello che può fare turn over secondo me è Tomori perché in realtà è solo di due però Kalunu si è visto in realtà si è visto proprio la mancazza del gioco si è visto la mancazza di De Keteler, di Messias, di di G.G.Rule e Leo Prime quando c'è Tonali e De Keteler, di di Punto Tonali, di Kalunu, di Calabria, è Richie che si è di 1,8 è pure Rebic, c'è Sebastista Stora, c'è i Debi quindi Piole è fatto bene a fare i cambi e c'è a fare i turn over Sieno, sì perché c'è il Debi ed è un turno infrasettimanale, no perché pure se una partita infrasettimanale si deve vincere, ora c'è pure Napoli-Lecce e le Albrezzari vincono tutte perché Roma-Monza, Inter-Cremonese, Sassuolo-Lecce, Inter-Lecce, le tre big, giocano con le tre neopromosse, più una Juve che giocava, non mi ricordo con chi, però con la Spezia mi sa, non possiamo lasciare punti così a caso, c'è il Derby, se giochiamo così perché già avevamo la testa al Derby, molto probabilmente, perché avevamo la testa al Derby, allora sto Derby però giochiamolo bene, non voglio vedere il gioco dell'altro giorno perché se no io davvero prendo da Zon e l'ho cucito proprio per capirci, mi dissocio, mi dissocio, mi dissocio, mi dissocio, mi dissocio, scherzo da Zon, ecco tutto qua, ah e volevo dire che ho cambiato editing, vi lascio qui sotto il nome e il link in descrizione per scaricarlo, qui il nome, qui, vabbè si chiama InShot, InShot e ci sta, comunque niente, non ho niente a dire, tra il punto di buttare sì, però un punto non è una sconfitta e noi ci vediamo domani con Spoilerino, dai Spoilerino, con un video di E ciao!